Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Oggi come vedete siamo qui su Clash Royale Ho deciso di portarlo perchè è soltanto Minecraft Vabbè iniziamo Allora ho un baule da aprire quindi Posso potenziare il cavaliere, le frecce Vabbè niente di che Poi vi dico che io non sono molto bravo perchè ho iniziato a giocarci ieri Quindi non è che io sia così tanto forte Vabbè potenziamo Potenziamo il cavaliere Così è al livello 3 più forte Vabbè adesso andiamo a fare Andiamo a fare una guerra Chiamatelo come volete Vediamo che altro possiamo potenziare Non so se è meglio il goblin lanciere O il goblin normale Aspettate Adesso per un attimo potenzio lui Così forse questo diventa più forte Non lo so eh Forse spawn una cacchiata Come è da ieri che ci gioco Lo posso migliorare ancora? E io lo miglioro Dai Perfetto Vabbè dai teniamo lui Vabbè adesso andiamo a fare una battaglia Perfetto Eh abbastanza forte lui eh Vabbè iniziamo Io come vedete ce l'ho sul pc Qui mettiamo il drago E Qui i goblin Io ce l'ho sul pc perché Riesco a registrare meglio dal pc Comunque il drago è forte Anche lui ce l'ha Accipicchia Adesso ci metto Vabbè il gigante non è che faccio così tanto controllo Dai 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 Vabbè E Metto gli arcieri qui Sai il gigante a livello 2 Sono fottuto Dai Un altro draghetino qui Perfetto Comunque ragazzi è già una droga Io da ieri che ci gioco però Veste cavolo Metto i goblin lì Cavolo Questa mi sta morendo Vabbè per aiutare Io faccio così Dai 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 No mi sa che muore Dai Adesso ci butto la freccia Dovrebbe morire questo Però è meglio distruggere E distruggere questi Così li distruggiamo tutti e tre Adesso metto un bel gigante qui Dai tanto il bombarolo Lo uccidono su un zio Lui però È abbastanza forte Spero che non mi uccida Vai 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 Arcieri Uccidetelo Vabbè L'ha già ucciso Adesso Adesso ci metto il drago Qui Dai 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 Noo Bastardi Dai al drago Che il drago è forte Dai uccidete Dai uccidete Uccidete Il drago Dai io penso Di farcela Il brutto del gigante Che fa tutto il giro Questa cosa io la odio Dai 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 Questa prima distruggiamo Questo dai Eh la me do Guarda Cioè dovrei fare Dai 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 vai Dai vai Metta i goblin Così aiuta Non uccidere No mi sa Che non ce la faccio Aspettate Cavolo No non ce la faccio Sì E la vinciamo E la prima l'abbia vinta Vabbè ormai è finita E dai vai La prima l'abbiamo vinta a 2 euro Baule d'argento Però ci vuole un sacco Sì Ci vuole un sacco Io non voglio spendere le gem Vabbè Questo è anche pro attore Ah un altro baule Dai 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 Qualcuno di nuovo Dai che merda Devo trovare la strega Perché è fortissima mi hanno detto Beh io sono ancora in arena 1 Dai facciamo anche questa Io direi di iniziare con il moschettiere Eh sì ciao Lui è il gigante al 2 Ok adesso sì che siamo morti noi Sì moriamo Questa non ce la facciamo Lo dico io Perché il gigante al 2 è proprio fortissimo Sì è messo meglio lui Guarda Beh adesso ci metto un bel gigante qui Aspettiamo che si apre Comunque il drago lo devo fare al 2 Dai 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 Adesso ci butto Le frecce qui o no Secondo me No Meglio questo La sfera è infucata Secondo me Vabbè No cavolo la strega Oh cavolo Bisogna che ci siamo fottuti Dai vai 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 Il drago il drago il drago Vai Stiamo perdendo tantissimo Io l'ho detto dai L'ho detto che portavamo È troppo forte sto qui Dai 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 ci metto un bel gigante Aspettate sennò Dai che anche gli arcieri sono utili Gli arcieri Ho sentito che per di più Sì ciao Adesso sì che sono messo male Aspettate che aiuto con una sfera Ho sentito che gli arcieri sono utili contro Adesso ho perso Ve lo dico C'è anche la strega Ho perso Perdo tantissimo Guardate No ho perso Ho perso E vabbè L'hanno vinta Beh una a noi E una a loro Beh io come vedete non sono in nessun clan Perché è da poco che ho iniziato Va bene ragazzi Io direi che questo video può finire qui Se vi è piaciuto lasciate un like In modo che io capisca E vi porto altri episodi Noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao